Pronti! Andate sotto che manchiamo! Ragazzi andate sotto! Ora andiamo sotto! Hai fame? Adesso non va basso, non è scritto. E dopo prendete tutti quello che vuole. Ok. Fanno le curazioni. Ok ragazzi andiamo sotto! Andiamo! Kakaino po kami! Pag-ahagat po daron! E'na mga unatana! Ok, unatana! Ok, unatana! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.